Eccoci ormai al consueto appuntamento con le news della settimana, però questa settimana c'è una piccolissima novità, ovvero domani, martedì 23 gennaio, sarò in live su YouTube dalle 21.30 per discutere proprio di queste news. E poi vabbè, come al solito si fanno chiacchiere generali sull'atletica, però si ricominciano le live proprio discutendo di queste news della settimana. E direi che partiamo subito e, come di consueto, guardiamo i record, perché come ogni settimana ormai ci stiamo abituando ad avere nuovi record. Matteo Toni, che settimana scorsa aveva sfiorato la miglior prestazione italiana under 20 nei 60 ostacoli, però non quella con le barriere da 100 cm, che è quella che usano normalmente gli juniors, ma con le barriere degli assoluti, quelle da 106. E questa volta, questo weekend, è riuscito a prendersela la miglior prestazione italiana, è sceso a 7.79, migliorando così di 3 centesimi quella precedente. E poi, certo, gli juniors non è che facciano tante gare con le barriere dai 106, però la cosa importante è che la precedente apparteneva a Lorenzo Simonelli, con 7.82. Quindi togliere la miglior prestazione italiana a un atleta che sta avendo una carriera così bella è abbastanza indicativo e rende questa miglior prestazione ancora più prestigiosa. E poi, ovviamente, dimostra ancora una volta il valore di Toni, che è decisamente alto. Passando a un altro record, passiamo a uno dei risultati più folli e anche probabilmente uno dei più significativi dello scorso weekend. Perché a Casal Maggiore sono caduti ben due record italiani cadetti. E la cosa particolare è che realizzarli è stata Alessia Succo, cioè la stessa atleta ha battuto due record italiani. Il primo a cadere è stato quello dei 60 ostacoli che apparteneva a Sandra Ferrari nel 2018, quando aveva corso 8.52. E Alessia Succo, già in batteria, aveva fatto 8.42. Quindi già lì un decimo in meno del record italiano è tanta roba. Però in finale si è migliorata ancora scendendo a 8.35 e quindi di fatto togliendo 17 centesimi al record italiano. Che in un 60 ostacoli, quando si parla di record soprattutto, è veramente tantissimo, è un'immensità. Poi come se non bastasse è stata la volta dei 60 piani dove Alessia, già in batteria, è arrivata a 7.49. Ovvero un solo centesimo del record italiano di Kelly Duale e Dimo. Che tra l'altro anche lei è cadetta e anche lei classe 2009. E poi in finale Alessia si è migliorata ulteriormente ed è arrivata a 7.45. E vi do qualche dato per far capire l'enormità di questo risultato. Perché se lei fosse allieva sarebbe già al terzo posto italiano all time. E a 7 centesimi del record italiano di Alice Pagliarini. Però parliamo delle allieve, non delle cadette. E poi sempre rimanendo un attimino in ottica Under 18, vi sottolineo più volte Under 18 perché le graduatorie della World Athletics non consentono di selezionare per gli Under 16. Alessia in Europa tra le Under 18 sarebbe al 33esimo posto all time di tutti i tempi. E addirittura nel mondo entra già in top 100 con l'89esimo posto. Però appunto stiamo parlando delle Under 18 non delle Under 16, cosa che lei è attualmente. Veramente Alessia è un enorme talento di cui non conosciamo attualmente i limiti perché ogni anno che passa sta migliorando i suoi primati personali. Quindi staremo a vedere cosa combinerà quest'anno perché le premesse sono a dir poco entusiasmanti. E poi c'è anche da dire che il livello tra le cadette sta diventando sempre più folle. Perché pensate che dieci anni fa nel 2014 il record italiano cadette nei 60 metri indoor era 7,73. Mentre adesso siamo a 28 centesimi in meno sul record italiano. Cioè è qualcosa di enorme 28 centesimi in meno sul record italiano in soli dieci anni. Cioè forse sui 10.000 metri ci starebbe anche ma sui 60 è veramente un'enormità. E non pensiate che questi enormi progressi negli ultimi anni siano dovuti solo alle scarpe. Perché a livello maschile non ci sono stati questi enormi cambiamenti così tanto forti. Cioè il record cadetti e il record allievi nei 60 piani è ancora dal 2019 quindi prima dell'era delle super scarpe. Spostiamoci a distanze un po' più lunghe spostiamoci al mezzo fondo ovviamente sempre indoor. Perché è caduto anche il record italiano under 18 nei 3.000 metri indoor. Grazie ad Alessandro Sant'Angelo tra l'altro allievo ma al primo anno perché classe 2008. Che ha fermato il cronometro 8.29.05 quindi all'incirca un secondo in meno rispetto a quanto fatto da Francesco Ropelato qualche anno fa. Il bello è che questo risultato non è stato neanche cercato Alessandro non è andato in gara pensando di fare il record italiano era semplicemente una gara. E quindi scoprire poi di aver fatto il record italiano è stata una cosa bellissima una sorpresa inaspettata e anche di sicuro molto piacevole. E poi vabbè comunque si sa che Alessandro Sant'Angelo non è un atletino. Già l'anno scorso da cadetto aveva preso la miglior prestazione italiana nei 1.500 metri e nei 2.000 metri. Poi vabbè nel corso della stagione quella dei 1.500 gli è stata soffiata da Gabriele Ferrara però lui comunque all'attivo ancora la miglior prestazione italiana cadetti outdoor nei 2.000 metri. E adesso ha cominciato a prendersi anche quelle degli allievi. Finita la parte dei record passiamo alle notizie generali. Perché sono stati confermati i campionati europei outdoor del 2026 a Birmingham nel Regno Unito. E sì si sapeva già che si sarebbero svolti in quella sede però nelle ultime settimane c'erano stati alcuni dubbi a riguardo perché la città di Birmingham è in una situazione finanziaria abbastanza disastrosa. E quindi cominciavano a sorgere dei dubbi del ma è sicuro che li facciano lì? È sicuro che Birmingham ce la faccia a fare un campionato europeo? E alla fine grazie all'intervento di alcuni fondi aggiuntivi è stato un po' ridotto il budget per quanto riguarda gli europei outdoor. Però comunque è stata confermata la volontà della città di Birmingham di realizzare i campionati outdoor del 2026. Però passiamo a un'edizione decisamente più imminente degli europei anche perché si svolgerà in casa nostra a Roma dal 6 al 12 giugno. E la notizia è una storica decisione della European Athletics di dare dei bonus economici alle migliori prestazioni. Più precisamente è stato stanziato un budget di mezzo milione di euro per premiare le 10 migliori prestazioni degli europei. Quindi in sostanza ad ogni prestazione migliore andranno 50.000 euro. Verranno premiate 5 prestazioni maschili, 5 femminili e verranno prese una ad ogni gruppo di specialità. Il primo gruppo sono velocità con gli ostacoli compresi. Il secondo è il mezzofondo, lanci, salti. E l'ultimo gruppo, il quinto, diciamo che è tutto il resto del mondo. Ovvero prove multiple, marcia e staffetta e anche la strada. Questa settimana è stata un po' scarsa di notizie generali. Però di contro abbiamo tantissimi risultati. Veramente ormai siamo nel pieno della stagione indoor e ci sono risultati interessanti da ogni parte del mondo. Pensate che addirittura la FIDA l'ha comunicato che nel weekend appena trascorso ci sono state oltre 10.000 presenze gara. Che non vuol dire 10.000 atleti perché un atleta magari ha fatto 2 o 3 gare durante il weekend. Però ecco credo che a logica parliamo di almeno 6.000 atleti presenti nelle piste d'atletica questo fine settimana. Ma prima di guardare quello che è successo in Italia spostiamoci quasi dall'altra parte del mondo. Perché andiamo in Brasile a San Paolo dove si è svolta la prima edizione dei giochi mondiali giovanili per sordi. Ovvero dedicate agli under 18. E dove nell'atletica c'è stata una sola presenza per quanto riguarda l'Italia. Però è stata una presenza abbastanza importante perché la classe 2009 Daphne Bornaghi è tornata a casa con ben 3 ori. Infatti in Brasile anche contro atlete di due anni più grandi ha vinto i 100, 200 e 400 metri. Con tempi di 13 e 22, 27 e 11 e 1, 02 e 24. Quindi anche se avevamo una sola atleta a rappresentare l'Italia in questa manifestazione. L'Italia si è comunque fatta valere nella velocità femminile dominandola totalmente. Sempre rimanendo nel continente americano ci spostiamo un pochettino più al nord. Andiamo negli Stati Uniti dove l'italiano Karim Mersal. Spero di aver pronunciato bene il nome perché di solito li sbaglio sempre. E' diventato il 22esimo atleta italiano di sempre sopra gli 8 metri. Atterrando nel saltillungo ovviamente a 8,02. E così piccola curiosità questa prestazione è la 122esima volta che un italiano arriva ad almeno 8 metri. Poi rimanendo un attimino in tema saltillungo anche uno dei più forti atleti al mondo è sceso in pedana in questo weekend. Si tratta del greco Miltidias Tentoglu che ha realizzato un 8,32 tuttavia non l'ha realizzato in gara perché si è trattato di un test. E però dalla federazione greca non si capiva assolutamente nulla di questa cosa perché è scritto appunto in greco. E tra le varie scritte strane c'era scritto 8,32. Inizialmente pensavo che fosse una gara invece no si è trattato di un test come ha sottolineato Jumper's World. Però ora ritorniamo in Italia e parliamo di una rubrica particolare perché si tratta dei record sfiorati. Che ce ne sono stati diversi in questo weekend. Infatti l'ostacolista Lorenzo Simonelli è sceso in pista sui 60 metri fermando lo cronometro a 6,59. Che si tratta di una prestazione di un solo centesimo in più rispetto al record italiano under 23 cioè quello delle promesse di Filippo Tortu che l'ha realizzato nel 2019. Tra l'altro con questo tempo Simonelli si piazza bene anche in gradatoria all time assoluta perché entra così alla decima posizione. E dove ricordo che il record italiano è di Marcel Jacobs realizzato due anni fa ai campionati mondiali indoor. E dove aveva fermato il cronometro a 6,41 che tra l'altro è anche il record europeo questo tempo. Così fa sempre bene ricordare questa cosa. Comunque tornando a Simonelli adesso per forza di cose le attese per quanto riguarda la sua gara d'elezione cioè i 60 ostacoli sono veramente molto alte. Altra gara, altro record sfiorato. Stavolta si tratta del record sfiorato nei 200 metri indoor allievi cioè gli under 18 dove Diego Nappi ha fermato il cronometro a 21,62. E anche qui si tratta di un solo centesimo in più rispetto al record italiano che è stato siglato nel 2002 da Andrew Howe. Quindi record che ormai ha 22 anni e direi che questo è l'anno buono per aggiornarlo. Anche perché Diego Nappi essendo allievo avrà agli italiani allievi i 200 metri indoor e dove si presume che lì sarà nel massimo della forma. Quindi incrociamo le dita. Anche perché Diego è da quando è cadetto che si parla di lui come atleta forte. E quindi questo tempo è solo l'ennesima conferma di questa affermazione. Arrivati a questo punto del video direi che un pochettino l'argomento vi interessa. Quindi vi ricordo di iscrivervi al canale nel caso non l'aveste ancora fatto. Magari lasciate un mi piace un po' per aiutare l'algoritmo a spammare questo video in giro nell'internet. Grazie mille se l'avete già fatto e grazie mille se lo farete da questo esatto momento. Però ora ritorniamo ai nostri record sfiorati perché ce n'è stato un altro e anche questo ad un solo centesimo dal record. Stavolta grazie ad Alice Pagliarini, primo anno Juniors, che nei 60 metri si è migliorata di 2 centesimi. Portando così il suo primato personale a 7.36 e che appunto è ad un solo centesimo dal record italiano under 20 di Vincenza Calì e che ad ogni gara di Alice trema sempre di più questo record. Perché già settimana scorsa Alice era arrivata a 7.40 adesso è scesa a 7.36 e speriamo che si continui così durante la stagione. Finita la parte dei record sfiorati facciamo una parte generale su tutti i risultati più interessanti detti abbastanza velocemente che non sono così eclatanti da dedicare un trafiletto apposito, però sono comunque abbastanza importanti da saperli. Cioè se qualcuno dovesse chiedere quali sono i risultati più importanti, questi ci entrano di diritto. Ma cominciamo. Francesco Pagliarini, allievo, scende a 6.89 nei 60 piani e diventa così il dodicesimo miglior under 18 di tutti i tempi. Manuel Lando, nel salto in alto, salta 2.24, già ad un solo centimetro dal suo record personale. La velocista Aurora Bertone nei 60 piani fa 7.32. Margherita Castellani, allieva, ferma il cronometro a 7.49 nei 60 piani, diventando quindi la quarta atleta under 18 di tutti i tempi. Eloisa Coiro toglie circa mezzo secondo dal suo primato personale nei 400 metri indoor, scendendo per la prima volta sotto i 53 secondi, fermando il crono a 52.92. Ottimo risultato dello junior Simone Giliberto, che nei 400 metri ferma il crono a 47.87. Diventando quindi il nono atleta italiano under 20 di tutti i tempi, a 76 centesimi dal record italiano di Lorenzo Benati. Poi davvero molto interessante il 4.07.32 di Giulia Aprile, che nei 1500 metri diventa così la quarta atleta italiana di tutti i tempi. Dove il record italiano, ricordo, è di Gabriella Dorio con 4.04.01. E poi questo tempo di Giulia rappresenta il primato personale anche all'aperto, cioè circa due secondi meno rispetto a quanto fatto all'aperto. Segno di un enorme progresso per questa atleta. Ora ritorniamo con i risultati all'estero, perché ce ne sono stati alcuni molto interessanti. Come per esempio Giulia Nalfred, atleta della piccolissima nazione di San Lucia, che però vabbè, lei si sa che è un atleta forte, sono un paio di anni, che continua a ottenere sempre migliori risultati. E in questo weekend ha corso i 200 metri in 22.28, ovviamente si tratta di short track, ovvero le indoor, e che tra l'altro non rappresenta neanche il suo primato personale, perché lei ha un 22.01, il che la colloca al secondo posto delle migliori atlete di tutti i tempi sulla specialità, dove il record è 21.93 di Marlene Ottei. Altra ottima prestazione è quella dello statunitense Casey Lightfoot, che nel salto con l'asta arriva a 6.00 metri, che si tratta tra l'altro di 7 centimetri in meno rispetto al suo primato personale, che è anche il primato americano. Attenzione anche a quello che ha fatto l'atleta delle Bahamas classe 1995, Divine Charlton, perché ha tolto 6 centesimi dal primato indoor nei 60 metri ostacoli, e arriva così a 7.75, tredicesima donna di tutti i tempi, e che tra l'altro è arrivata quarta ai mondiali dell'anno scorso, e seconda ai mondiali indoor di due anni fa, dove tra l'altro era proprio lì che aveva fatto il suo precedente primato personale. Sempre rimanendo in tema di ostacoli, abbiamo il primo sub 7.50 a livello maschile, grazie allo statunitense Trey Cunningham, che ferma il crono 7.47, ovviamente miglior prestazione mondiale dell'anno. Chiudiamo le 13 notizie della settimana con il bollettino doping, perché nella settimana appena trascorsa sono stati squalificati per tre anni due atleti keniani. Guarda caso proprio keniani, non succede mai che dei keniani vengano squalificati. Comunque non si tratta di atleti di rilevanza mondiale, perché sono i classici atleti che vanno a fare i maratoni di serie B, serie C anche, e che vi partecipano per poter vincere poi il premio in denaro, non puntano ai campionati mondiali o a chissà che roba. Uno dei due atleti è stato squalificato per uso di eritropoietina, cioè l'epo, e l'altro per testosterone. E così si concludono le notizie della settimana. Spero di avervi dato una panoramica generale di quello che è accaduto nella scorsa settimana, spero che il video vi sia stato utile e vi ricordo che domani, martedì 23 gennaio, ci vediamo in live alle 9 e mezza per discutere appunto di queste notizie e magari parlare di qualcos'altro, comunque chiacchiere generali di atletica le facciamo sempre. Grazie mille di avermi seguito fino a qui, buon divertimento agli allenamenti e buona fortuna alle gare. Ciao ciao!